Dov'era diretta la signora? Guarda che se non mi dici dove è andata la signora, io ti licenzio. Ma chi? Ma chi licenzia e licenzia? No, ma allora non avete capito niente. Guardate che qua se c'è una persona che è stata licenziata, e te voi nonni, meglio che ve lo stampate qua, eh. Ma voleva licenziare pure, eh già. La signora, sei andata da pigliare un'avvocata di ossigeno, non è affatto buona, sa fa marone. Ma secondo voi, ma che cosa doveva fare vicino ad una palla a moscia così? Che voi in dieci anni l'avete fatta solo intossicare, che la povera signora, eh. Perché lasciatevelo dire, siete una cosa pesante noi oggi. Ma non poca, sai pure. Ma che cosa che vi avrà visto per aver sposato, vuole sapere per spizio. Non siete belli, non siete intelligenti, ma avete saputo manca fare l'industriale, io ho detto tutto. E quando uno non tiene capacità da sto posto sui, se no poi non si trova con i conti, mi ce l'ho spiegato. E ora sapete come è venuta così, con una manananza in una tarretta, popò, a festa e fornuto. Ma va a cagare. Tu e Biancaneve, dal boss ti mando lavorare io.